ragazzi iscriviamoci al canale gratis iscrizione al canale e campanellina se vi fa piacere altrimenti lo dico sempre va bene uguale sono stato via qualche giorno per lavoro in trasferta ero ero veramente stanco e se bisogna fare i video tanto per farli per come la vedo io è meglio non farle capito anche se è un servizio non serve non è un servizio è una roba gratuita in questo canale ma si cerca di dare comunque un prodotto di qualità mi capisci sette gente non sa nemmeno non sanno nemmeno cosa è fatta una palla io io non ho mollato nulla io della proprietà non parlo perché ne ho parlato tanto ne ho parlato anche troppo la mia idea è sempre quella c'è bisogno che ridica le stesse cose cento volte io c'è a me capito tutti i giorni le stesse cose non basta questa l'inter fa parte del calcio l'argomento è il calcio e io non ho bisogno di parlare tutti i giorni delle stesse cose fortunatamente ho tanti argomenti mi apisci c'è stato rinnova in zaghi io lo dicevo in questi giorni no io non ne ho parlato giuse la tua sui zaghi su instagram su twitter eh in privato ovviamente per email la mia sui zaghi io te l'ho detto l'anno scorso alla fine prima della finale non gli puoi dire che ha fatto male come Marotta non è eh uno che lascia gli allenatori a scadenza Marotta non lascerà mai un allenatore a scadenza di contratto perché anche perché lo rendi molto meno credibile agli occhi degli decalciatori un allenatore a scadenza un allenatore con un contratto forte è molto più credibile soprattutto un allenatore che può essere migliorato come in zaghi non è il mio preferito come allenatore in zaghi ma ho sempre detto che per questi intercinese senza portafoglio in zaghi era più che sufficiente l'ho sempre detto ci sono i video vai a riprenderli anche di quattro cinque mesi fa quindi questo è un allenatore che nella personalità non dà il meglio di se stesso poi altre qualità altre doti ci mancherebbe non è l'ultimo degli allenatori ti ho detto per un inter così che va avanti non si sa come ma sta andando avanti in zaghi più di zaghi non ti puoi permettere perché poi alla fine il suo l'ha fatto come eh a proposito turam non segna vero eh come come turam non segna attenzione al gol di turam turam fa il gol il primo che lo va a abbracciare in bappé attenzione finiamo su in zaghi in zaghi è un allenatore che tutti gli anni c'ha quei due mesi di blackout un po' come l'autaro no che c'ha quei due mesi che non segna c'ha quei due mesi dopo le sue squadre appena arrivò all'inter subito non c'ha uno staff tecnico all'altezza l'inter lo deve aiutare lo dissi anch'io appena arrivò in zaghi anch'io parlai dello staff tecnico ci sono i video che lo testimoniano non era uno dei suoi punti di forza quindi l'inter secondo me lì gli ha dato una mano anche ai preparatori dei portieri che è venuto dal dal paris saint germain però ad un certo punto della stagione l'anno scorso in zaghi cosa fa impara a fare una cosa fondamentale ovvero sia impara a vincere le partite sporche quelle partite dove impara a vincere anche quelle capito perché l'inter dove durava fatia nelle partite quelle un po ripeto definite sporche si pareggiava addirittura a volte attaccavi e perdevi mentre l'inter nel girone di ritorno negli ultimi due tre mesi impara a vincere le partite sporche e lì secondo me in zaghi ha fatto ha fatto una ha fatto una buona rescita poi lui ha sempre quel modulo in testa gioca sempre in quella maniera ma attenzione quest'anno ora mettersi lì a dire negli undici negli undici titolari siamo meno forti o più forti sinceramente ci devo ancora pensare e mi devi dare ancora un po' più di tempo per per dirlo io ti posso dire che ha fatto più turami tre partite che il ballerino in due anni ma ti dirò che turam farà più turami dieci partite che lukaku in tutto l'anno l'anno scorso questo ti posso garantire che questo se siamo più forti dell'anno scorso eh negli undici non lo so non lo so ma c'è una rosa molto più ampia e attenzione perché in zaghi ha abbassato il baricentro l'inter gioca con un baricentro più basso e questo serve anche a proteggere i giocatori come devrai acerbi giocatori che sono un po' statici non sono esplosivi ma questo serve a difendere anche a sua volta la difesa quindi l'inter gioca con un baricentro più basso anche perché ha un portiere che non esce le hai viste le incertezze di somberi abbiamo detto mille volte un gatto tra i pali però non esce ma lui ha abbassato il baricentro questa è un'altra roba intelligente non dice nessuno ai zaghi ha abbassato il baricentro della squadra e spesso il baricentro lo sposta sulla destra e l'allenatore ovviamente decide queste molte tanti e qui e così puoi proteggere tranquillamente difensori non esplosivi come devrai e come acerbi devrai deve essere titolare perché rispetto ad acerbi e di due categorie superiore per quello e poi riguarda turam non segnala eh fa solo giochini turam è un grandissimo giocatore ieri entra segna fai due a zero il primo ad andarla abbracciare è proprio un bappé e questi sono segnali importanti perché oltre ad essere un grande calciatore turam è anche un bravissimo ragazzo un ragazzo serio gli hanno chiesto della tula la tula andate a chiedere a lottaro capito come ci si comporta non come i baciamaglie non come giudacu questi sono anche uomini oltre ai cacciatori e ne beneficia tutto l'ambiente quando te hai dei ragazzi così che ti giocano in capo ma anche da fuori dal capo perché danno anche esempio ai ragazzini e cominciano a giocare a calcio io ho un figlio piccolo è già già è innamorato di turam perché ho un intenditore anche se è piccino quindi ehm uno dei punti di forza di quest'anno a parte gli undici concludendo questo video è proprio la rosa perché per assurdo a Inzaghi per come gioca lui per le prestazioni che devono garantire i giocatori che vanno in campo soprattutto a livello atletico per Inzaghi è meglio avere una rosa ampia che un undici più forte titolare attenzione questa storia della rosa ampia per lui è come il cascio sui macchieroni perché lui comunque un allenatore e il turnover lo fa lo fa tanto poi l'anno scorso ci sono stati dei cambi discutibili ma è anche vero che in panchina su dieci ce n'aveva due tre potabili no ma questa rosa ampia gli darà modo a Inzaghi secondo me di esprimersi ancora meglio perché lui è un allenatore che gira fa tanto turnover anch'io l'ho detto spesso lo fa per accontentare un po' tutti ma è un allenatore che comunque le gira gli gira il giocatore mi gira tanto e questa storia della rosa ampia dove l'Inter ha una rosa nel complesso la migliore secondo me che c'è in termini sia numerici che qualitativi perché anche classe ragazzi classe non grande giocatore lo vedrete appena entra in campo io ve lo dico io l'ho visto giocare solo quattro volte ma mi ha impressionato quello c'ha la palla incollata al piede mezza alla destra mezza alla sinistra play trequartista dietro la punta lo vedrete quando entra in campo quindi la storia della rosa ampia di Inzaghi intenzione perché per lui è meglio un'ampiezza di rosa e un undici titolare più forte eh per come gestisce lui le stagioni che per come gestisce le partite con questo è tutto magari ci becchiamo più tardi ciao Inter